Salve a tutti, non so se voi l'avete saputo, ma il nuovo presidente sono io, Osso. I Bellini è stato eletto nuovo presidente dell'Italia e non solo. Siamo qui per dirvi il nostro programma, noi si avvierà subito con l'Ampredottonia. La provincia unica sarà l'Ampredottonia, Osso. Allora, dunque, per prima cosa... Amara, eh, e tu sei sporco di bianco qui vicino il naso. No, si dice, allora, per primo si deve bombardare Pistoia, Prato, Empoli. Sì, bombarderemo Quarrata, Forrottoli, bombarderemo addirittura Osso Migliana. Si farà, e ci si mette in mare, ci si fa una buca e ci si... Fa finita con tacchiazucca e conti, gli è gessato. Allora, si farà, ci si mette in mare, ci si mette in mare perché per lungo un cento si metterà Peritto. Peritto si vuole mettere. L'Ampredottonia sarà il futuro, il futuro dei giovani. Io sarò il sindaco di L'Ampredottonia. Allora, l'Avetone verrà deglassato, verrà portato a livello zero, a livello di mare perché? Perché ci si mette la sabbia, ci si può mettere la sabbia, ci sarà... Uno andrà a pescare, per dire, all'orata, all'Avetone, mentre la Carvana diventerà, diciamo, metaturistica, diciamo, d'agosto. Ci si metterà la neve, in piatti scistici, a tutto fuoco. Poi, l'arsella, le arselle non saranno più uno spaghettino di mare, ma saranno uno spaghettino di montagna. Se uno va a mangiare l'arselle, per cercare l'arselle, dall'arselle, come si dice, allora poi deve andare a montagnana. Mentre funghi e funghi porcini e finaroli ha in mare. Si è fatto, diciamo, per questo sconvolgimento, perché io credo che, secondo me, poi anche lui gli ha detto sì, dice, tu fa bene, e io lo fo, e io lo fo per voi italiani. Io lo fo per voi, i toscani, noi si fa per voi, e voi ve lo fate per noi. Hanno parlato tanto di mani sporche, e noi si ho le mani lercie. Gli è ora di finirla, questo discorso, e rubano. Noi siamo apposta per rubarvi. Noi si viene, diciamo, le mani lercie. Noi si ho gli zingari. Ogni italiano dovrà pigliare in casa uno zingaro, coso. Perché? Perché noi siamo per la mentalità aperta. Più cinesi, più spacciatori, più, più, capito? Ci vuole più fontane, più fontane fresche, dove andarsi, diciamo, può lavarsi queste mani unte, bisunte, lercie. Noi si vuole andare a tirreia, per dire, a mettere le mani nella sabbia sabbiosa, e poi dopo di costume, di tentafravit, di tutta noia, addosso, con la crema, e pigliare i sole, ti salpiccia, tutto. Noi si vuole più salsa verde. Più fischioni. Dio bene o Dio male? Eh? Sei ripreso un pochino? Sei ripreso o no? Vabbè. Con questo, Toscani e non, è tutto. Buona Ugo. Cisi. Mi raccomando, fate i bravi. Sì, mi raccomando, fate le mani nella assenza. Già, mi raccomando, fate le mani nella assenza. Sì, mi raccomando, fate le mani nella assenza.